Avete mai sentito nostalgia del futuro? Vi è mai capitato di immaginare il vostro mondo ideale? Ecco, noi abbiamo sempre creduto che innovazione e creatività possano trasformare una visione in qualcosa di concreto. Lo abbiamo fatto cambiando il concetto stesso di TV. E oggi siamo pronti a cambiare ancora. Per questo abbiamo pensato a una connessione semplice, potente e spettacolare. Per rendere le cose migliori e più semplici di quelle che sono. Per cancellare le distanze e non averne tra una stanza e l'altra. Per dire addio a quella rotellina che gira e gira. Per guardare la partita tutti insieme o ciascuno il suo film. Avventura. Per non giocare più a ruba banda e descrivere il concetto di formato famiglia. Per non essere mai più in ritardo, trovarsi in cento in una stanza e partecipare alle riunioni senza togliere il pigiama. Per imparare sempre qualcosa di nuovo. Per essere già pronti per la scuola di domani. e per la libertà di spegnere tutto quando è ora di stare insieme. Per essere tutti connessi a quello che amiamo. Ecco, lo abbiamo fatto per questo e per quello che ancora dovete immaginare.